Grazie a tutti. È stata una grande emozione per noi preparare tutti questi video, sentiamo il peso emotivo di tutti i genitori che ci stanno guardando, che hanno collaborato a questa impresa faraonica e quindi volevo dare voce a questo perché ce lo dicevamo tra noi. E come diceva ieri il dottor Bianchi non soltanto le persone che compariranno ma tutti quelli, c'è stato un lavoro di tutta l'equip, anche di coloro che non parleranno e che magari appariranno solo nei video. Bene, questo intervento come tutti gli altri miei interventi come vedete è scritto a quattro mani. Per motivi di continuità sarò io a parlarne ma non c'è un solo pensiero di quello che dirò che non sia stato profondamente discusso, a volte anche animatamente, e condiviso con Federico Bianchi di Castelbianco. Allora, questo sarà l'intervento più lungo della giornata e abbiamo un programma molto intenso e speriamo di riuscire a portarlo avanti adeguatamente. Quello che vorrei tentare di fare è comunicare le basi teoriche che animano il nostro approccio, non soltanto all'autismo, ai bambini in senso generale e quindi a tutte le possibili manifestazioni. E prima di fare questo però vorrei fare alcune riflessioni, alcune cose sono state dette ieri, di un cambiamento che c'è stato con il DSM-5 che ci permette una maggiore dimensionalità. Come tutte le cose, se sono adeguatamente interpretate, sono assolutamente positive, altrimenti possono diventare un limite, perché quello che è successo con il DSM-5 è che tutti i disturbi rientrano nello spettro autistico, quindi da quello meno grave a quello più grave, ma viene chiesta una specifica dei vari livelli di gravità e delle singole funzioni. Allora capite che se questo meccanismo viene utilizzato, allora noi possiamo avere una reale differenziazione dei bambini, altrimenti il rischio è che abbiamo soltanto allargato la maglia, cioè abbiamo un numero maggiore di bambini dello spettro autistico però non differenziati. La premessa è che per definizione, per modo di essere, per scelte teoriche, noi pensiamo che la contrapposizione sia qualcosa che non debba mai esistere, dico spesso che preferiamo un mondo con le E a un mondo con le O, perché la complessità necessita di molte E e della capacità di mettere insieme. C'è uno sforzo crescente per rispettare questa complessità e il rispetto della complessità dovrebbe portarci fuori dalle contrapposizioni, che però, questo è l'aspetto che mi interessa sottolineare, le contrapposizioni spesso sono la conseguenza di una mancata conoscenza delle determinanti teoriche, cioè sono contrapposizioni che si fanno sui mezzi utilizzati, non sull'epistemologia di ogni singolo approccio. E spesso, se non c'è una riflessione profonda di questo, in realtà non sappiamo cosa stiamo contrapponendo e pensiamo che la differenza sia solo quel comportamento che stiamo chiedendo. E quindi per confrontare e non contrapporre l'approccio comportamentale e quello volitivo, bisogna comprendere queste differenze. Io abbiamo messo soltanto alcune cose molto generali, per esempio, quelle che secondo noi sono le confusioni che hanno generato contrapposizioni. La prima, identificare i mezzi con gli obiettivi della terapia. Ritenere che gli obiettivi dei due approcci siano diversi. Allora, qui c'è un primo punto da chiarire. Non esiste una terapia che non lavori sul cambiamento dell'approccio cognitivo al mondo. Anche la terapia più profondamente psicodinamica lavora perché l'individuo cambi la sua visione del mondo. Quindi l'obiettivo ultimo di ogni terapia è lo stesso. È promuovere l'adattamento dell'individuo. Ovviamente esistono delle differenze concettuali tra due approcci. La prima è l'idea di come viene costruita la mente. E come si interviene, chiaramente, per favorire lo sviluppo della mente. E l'altra differenza fondamentale nella concezione di come si costruisce la mente è la diversa importanza che viene conferita da due approcci alla dimensione affettiva nel facilitare o promuovere lo sviluppo cognitivo. Allora, possiamo sinteticamente, scusatemi la sinteticità, ma insomma possiamo dire che mentre nell'approccio evolutivo, proprio partendo dalle premesse dell'evoluzione, è la dimensione affettiva che porta con sé l'evoluzione cognitiva e quindi, diciamo, le due dimensioni sono assolutamente interdipendenti. In un approccio, invece, di tipo comportamentale, epistemologicamente parlando, le due funzioni sono considerate indipendenti. tale per cui io posso lavorare sull'una per arrivare all'altra e, diciamo, adesso vedremo meglio nel corso dello sviluppo, nel corso dell'evoluzione, capiremo meglio questa differenza. E ovviamente la differenza sta nei mezzi che vengono utilizzati. In un approccio cognitivo si lavora prevalentemente sulla dimensione cognitiva per modificare l'assetto cognitivo in una dimensione evolutiva, si lavora sulla dimensione affettiva per modificare l'assetto cognitivo. Perché abbiamo privilegiato l'approccio evolutivo? Adesso questo era un po' per chiarire che non stiamo, insomma, nelle contrapposizioni. Quello che noi vogliamo spiegarvi, pensiamo, abbiamo voluto dopo il convegno queste giornate di studio, per, e questo è stato il grande impegno anche emotivo, perché riteniamo che in questo momento dove possono esistere delle confusioni nel collettivo sia importante che ognuno cerchi di chiarire con trasparenza come lavora e questo mi sembra che sia qualcosa di dovuto alle famiglie perché possano orientarsi nella giungla della riabilitazione che spesso, già non ci capiamo tra noi professionisti, immaginiamo che cosa succede a un genitore che si trova con contrapposizioni varie. Il motivo per cui abbiamo privilegiato da sempre l'approccio evolutivo è il fatto che anche le ultime teorie dello sviluppo, peraltro suffragate dalle neuroscienze, sottolineano la centralità della dimensione affettiva come impalcatura per tutte le successive evoluzioni. Tutte le teorie dello sviluppo lo hanno ampiamente dimostrato. E allora qui c'è un punto che come abbiamo ieri un po' velocemente sottolineato attraverso le ricerche che siamo riusciti a fare c'è comunque un accordo la dottoressa Montano prima ci parlava della necessità che il pediatra riesca a fare le prime chat a 18 mesi, siamo ora in grado di evidenziare dei segni di rischio già nel primo anno di vita e comunque siamo d'accordo sul fatto che nel primo anno di vita sono già visibili alcuni comportamenti. Quindi il deficit si colloca ad un livello molto arcaico e quindi sono conseguenti ad una mancata sintonizzazione e quindi è per questo che riteniamo indispensabile partire da lì. Quindi i pregiudizi che hanno creato confusione sono identificare l'approccio evolutivo con la colpevolizzazione delle madri. Questo ce lo siamo sentito dire tantissime volte. Quando noi diciamo che la madre deve essere aiutata a sintonizzarsi con il bambino non partiamo dal presupposto che la madre necessariamente abbia un suo deficit partiamo dal presupposto che rapportarsi con un bambino atipico è assolutamente difficile e quindi queste madri non riescono nessuno di noi se non attraverso tutta la fatica che vedrete viene fatta riesce a sintonizzarsi con un bambino che parla un linguaggio altro e quindi quando diciamo una mancata sintonizzazione questo dipende dal fatto che il bambino non attiva fin dall'inizio la responsività della madre. La dottoressa Vinci dalla Sicilia mi dava come risposta all'immagine del contagio è il fatto che i bambini che vige questa modalità che trovo straordinaria che i bambini a due mesi loro lo definiscono uguntu ed è quando il bambino circa due mesi comincia a rispondere al racconto della madre e questo viene assolutamente enfatizzato culturalmente perché c'è proprio un accesso al mondo della narrazione e le tradizioni popolari insomma come vi dicevo ieri nel 40 Bloiler parlava di mimesi affettiva è la stessa cosa i siciliani pure lo sapevano ok bastava chiederglielo ritenere che una causa genetica richieda necessariamente una terapia comportamentale non c'entra una causa genetica può determinare dei deficit che necessitano di sintonizzazione tale quale un bambino che non ha un problema genetico non è la geneticità del disturbo che determina il tipo di malattia è la manifestazione del sintomo che ci fa stabilire dove dobbiamo intervenire identificare la terapia solo con la talking cure e questo è ancora un retaggio culturale molto forte noi da anni ci battiamo per questo anche nella nostra formazione di psicoterapeuti diamo una fortissima importanza alla dimensione corporea quindi il nostro è un approccio evolutivo psicodinamico che utilizza la dimensione corporea come principale strumento della terapia la confusione tra eziopatogenesi e fenomenologia del disturbo ha fatto per anni perdere le straordinarie conoscenze emerse in ambito psicoanalitico che ora le recenti teorie cognitive e neuroscientifiche stanno dimostrando noi abbiamo avuto per parecchi anni una perdita di un patrimonio culturale che ci aveva dato veramente moltissimo perché e questo ci tengo molto a settolinearlo se non confondiamo l'eziopatogenesi con la fenomenologia del disturbo allora diciamo avere una chiara definizione della fenomenologia del disturbo è una cosa essenziale perché noi abbiamo bisogno di codici interpretativi per entrare in rapporto con un bambino che è in un altro in un'altra dimensione e se non abbiamo questi codici interpretativi noi perdiamo la possibilità di dare senso e significato all'azione dell'altro e quindi non riusciremo mai a portare il bambino dalla nostra parte intesa come nostra parte un mondo della cultura dove il linguaggio veicola comunicazione e significati profondi quindi vi faccio soltanto alcuni esempi dei concetti antichi con i quali noi abbiamo lavorato in tutti questi anni e che sono stati confermati anche dalle teorie di stampo cognitivo è questo che credo che sia fondamentale ma perché ci sia un'integrazione dei vari ambiti bisogna che siano conosciuti che uno si studi l'una e l'altra cosa così può capire dove ci sono le somiglianze e dove le differenze e Meltzer ci aveva parlato molto tempo fa di sensorialità smontate per descrivere quella situazione del bambino che pur avendo delle sensorialità integre cioè un bambino che sente che vede eccetera ha una mancanza di integrazione delle sensorialità cioè e questo è il grande problema che non permette le connessioni se non sono integrate le sensorialità non ci può essere un processo evolutivo che dall'integrazione porti poi alla comprensione eccetera eccetera quindi questi concetti sono stati ampiamente confermati dalla AIRES tra l'altro alcune cose le hanno scritte anche in anni contemporanei scusate ancora sulla fenomenologia del disturbo diceva la Tastin nel 72 gli oggetti non vengono percepiti in base alla loro funzione questo è il problema chi ha esperienza con i bambini autistici sa che un oggetto non viene usato in base alla sua funzione ma in base a delle caratteristiche sensoriali vorrei dire meglio uni sensoriali proprio perché le sensorialità non sono integrate il bambino che sta lì che è tutto preso visivamente o uditivamente e quindi questi oggetti rimangono oggetti e forme c'è scritto artistiche molto bello ma sarebbe autistiche questa succede spessissimo io la trovo splendida questa cosa che ogni volta le autistiche diventano artistiche perché sono anche forme artistiche e poi o oggetti non se fordam e queste affermazioni sono state confermate da studiosi straordinari di ambito cognitivo come Trevarten e Tronic la pelle come involucro psichico non è investita del significato di confine tra interno e esterno e non si forma quindi un involucro psichico Anzie che è sull'io pelle e in maniera particolare Usel si è occupato dell'involucro psichico nei disturbi dello spettro autistico anche questo è stato ampiamente confermato dalle neuroscienze allora cosa succede che in risposta a frustrazioni il bambino attiva difese del sé due parole su questo perché è molto importante difese del sé scusate devo fare una piccola precisazione non significa difese dell'io difese del sé sono qualcosa di profondissimamente arcaico cioè non si è ancora formato un io e sono il termine meccanismi di difesa che più o meno tutti conosciamo si riferisce all'io il sé è qualcosa di precedente allora dice Fordham nel 76 il bambino non deve che è uno junghiano non deve proteggersi da oggetti esterni né interni perché sono inesistenti ma da oggetti non sé il bambino erige una barriera prima di creare un mondo interno questo sfata ogni possibile dubbio sul fatto che in un'ottica psicodinamica si stia ancora nostalgicamente a pensare che il bambino sta in un suo mondo e che noi dovremo solo andare lì e scoprire e riagganciarlo la barriera è utilizzato appositamente questo termine e non la difesa viene eretta prima ancora che possa esserci un rapporto con l'esterno quindi la verità ci dice Fordham è che il bambino un mondo interno non l'ha costruito ancora e quindi questo spero che serva a sfatare idee romantiche che non ci servono ci servono idee di bambini reali che vivono si muovono e quant'altro la predisposizione a sviluppare idee arcaiche sentimenti e fantasie che non sono inculcate o introiettate dall'esterno è interferita dalla disarmonia nel processo di deintegrazione e integrazione in due parole cosa dice Fordham che c'è un'unità psicosomatica originaria che si incontra gradualmente con il mondo e negli incontri con il mondo e questo è un processo scusate fisiologico gli incontri con il mondo fanno deintegrare questa attività questa unità psicosomatica e poi il bambino reintegra pensate semplicemente alle pause del sonno e della veglia il bambino ha incontrato il seno ha fatto il suo allattamento e si è deintegrato perché in quel momento è un oggetto esterno che arriva e poi nel momento dell'addormentamento e in tutte le pause di nuovo reintegra e così il mondo gradualmente un pezzo alla volta entra nel suo vissuto ma l'incontro con le esperienze del mondo è interferito nel bambino autistico ed è possibile che lo stimolo sia confuso con parti del corpo stimolando una reazione autoimmune trovo questa teoria del 76 straordinaria e assolutamente moderna una sorta di malattia autoimmune in cui il bambino rifiuta gli oggetti non sé tutti gli sviluppi successivi dice Fordham che sono basati sulla pressione maturazionale anziché portare a quel fisiologico meccanismo di mi deintegro mi reintegro mi deintegro mi reintegro e così continuo a svilupparmi in questo caso portano alla disintegrazione allora ora voglio fermarmi un attimo sul grande contributo che Antonio Damasio ci ha dato nelle neuroscienze e che ci permette di capire perché il corpo come strumento di conoscenza e di terapia dice Damasio le menti coscienti questo è uno degli ultimi no ci sono altri contributi l'ultimo libro che è uscito in italiano che è il se viene alla mente dice le menti coscienti affiorano dall'instaurarsi di una relazione tra l'organismo e l'oggetto del conoscere le immagini che rappresentano l'organismo originano all'interno del corpo e costituiscono sentimenti primordiali spontaneamente presenti beh sono le idee arcaiche gli archetipi di cui parlava Fordham e Jung prima di lui per i segnali provenienti dal corpo e diretti alla corteccia il tronco encefalico non è una stazione di transito ma un luogo decisionale questo è il punto fondamentale decisionale significa che è da lì che iniziano le prime i primi movimenti verso la futura conoscenza non è un transito è un luogo decisionale ecco perché noi partiamo dal luogo decisionale stazioniamo in questo luogo decisionale per cercare di andare di portare il bambino oltre perché è proprio per il bambino autistico è da lì che originano già i primi problemi perché questi sentimenti primordiali che appartengono al corpo sono quelli che consentono di arrivare a Uguntu a due mesi sono quelli che permettono le sintonizzazioni sono quelli che fanno riconoscere un essere umano da un altro sono quelli che hanno permesso accennavo ieri il fatto che Meltzer Meltzoff ha fatto a 42 ore di vita i bambini l'esperimento di far muovere un oggetto da una persona e da una macchina e il bambino capiva le intenzioni se era una persona a muoversi e non una macchina e questo è perché esistono esiste questa stazione decisionale quando mappiamo gli oggetti e gli eventi del nostro corpo essi sono all'interno dell'organismo non vanno da nessun'altra parte sono lì il protosee stiamo sempre parlando di Damasio è un insieme di mappe che rimane interattivamente connesso con la sua fonte una radice profonda che non può essere alienata in caso positivo e anche in caso negativo la conoscenza che rende cosciente la nostra mente deve essere costruita secondo una modalità bottom up dal basso verso l'altro dal corpo alla mente e non viceversa come si è pensato e come in alcune teorie ancora si crede oppure di poter cambiare la mente con la mente ma senza tenere conto che c'è questo passaggio ineluttabile dal corpo il cambiamento del protosee determina una trasformazione del sentimento primordiale che dà luogo a una sensazione di conoscere l'oggetto la generazione della prominenza dell'oggetto coinvolge l'organismo in un processo incluso nel termine attenzione l'attenzione parte da qui dal momento in cui c'è l'incontro con un oggetto che può diventare prominente perché invece per il bambino autistico il mondo è unidimensionale è la prominenza quella che non consente il riconoscimento del mondo alla fine di questo ciclo la mente contiene immagini riguardanti una sequenza semplice molto comune di eventi un oggetto ha coinvolto il corpo nel momento in cui è stato guardato toccato o udito da una specifica prospettiva il coinvolgimento scusate ha indotto un cambiamento nel corpo la presenza dell'oggetto è stata sentita l'oggetto è stato reso prominente vedrete quanto stazioniamo perché questo oggetto diventi prominente per i nostri bambini l'oggetto entra a far parte della conoscenza del bambino e si insedia nella memoria il sé affiora la mente sotto forma di immagini che narrano senza soluzione di continuità la storia di questi coinvolgimenti diceva Tastin nel 72 gli oggetti non acquisiscono prominenza è esattamente quello che ci chiarisce Damasio e il mondo rimane bidimensionale o unidimensionale il bambino non è in grado di passare dall'esperienza sensoriale del corpo a un universo di discorso mentalizzato questo è il ponte che noi dobbiamo costantemente gettare ai nostri bambini per portarli verso una mentalizzazione in base a queste premesse teoriche il nostro approccio si colloca in queste aree arcaiche del corpo per aiutare il bambino a interagire con gli oggetti e con l'altro partendo da quella stazione decisionale dove abitano i sentimenti primordiali e d'altra parte Gallese e Lakoff ci sottolineano che gli stessi circuiti senso motori che controllano i movimenti del corpo e la percezione strutturano anche il pensiero astratto ecco perché noi partendo da lì lavoriamo sul pensiero per questo tipo di connessione che fa parte dell'evoluzione umana non della teoria se la conoscenza segue l'andamento bottom up per favorire la mentalizzazione e un miglior adattamento del potenziale cognitivo allora è necessario partire dagli affetti e sintonizzarsi con i bisogni del bambino è per questo che nel nostro approccio tutte le operatrici commesse al femminile e i psicoderapeuti al maschile così ci stanno tutti sono formati in senso psicodinamico perché bisogna avere la capacità di sentire al posto del bambino contenendo la sua profonda frustrazione nel non riuscire ad integrarsi il punto di partenza è sempre il corpo come sede di sentimenti primordiali che devono essere accolti decifrati ed elaborati dalla mente del terapeuta ma la premessa irrinunciabile è quella di partire dal bambino non dai sintomi che presenta per garantire comunque il suo diritto all'infanzia la dimensione ludica giocare non fare dei giochi è ciò che caratterizza tutti gli interventi affinché il piacere e la motivazione siano i veri attivatori della funzione cognitiva il lavoro con i genitori è finalizzato a sostenerli nel difficile compito di sintonizzarsi con un bambino che non è predisposto a farlo per migliorare il loro insightfulness e voglio un po' appunto spiegarvi e presentarvi alcuni dati diciamo da oltre dieci anni il nostro lavoro che era comunque presente già da molti anni in precedenza è stato sistematizzato all'interno di un progetto che abbiamo voluto chiamare tartaruga per indicare proprio il senso non qualcuno ha pensato perché c'è la corazza no perché va piano ma lontano e questo era il senso profondo che noi avevamo voluto dare perché questi bambini a volte ci mettono un tempo inenarrabile ma arrivano e questo significa poter trovare qualcosa di tipico in una tipia che sarebbe completamente sconcertante per noi quindi poter pensare che troviamo delle tipicità nel bambino umanizza il nostro processo di cura e ovviamente diciamo le premesse teoriche sono quelle che vi ho detto e in questo progetto noi lavoriamo tantissimo soprattutto inizialmente attraverso la corporeità in vari setting che abbiamo cercato di potervi mostrare oggi ma c'è anche un grandissimo lavoro che viene fatto con genitori avremo delle relazioni sia con i genitori da soli sia genitori insieme ai bambini allora che cosa abbiamo voluto fare con questa ricerca questi sono gruppi diversi ancora da quelli che vi ho presentato ieri c'è un gruppo di bambini che abbiamo seguito dai 4 ai 7 anni ma quello che abbiamo voluto vedere era in che modo procedeva l'evoluzione dei bambini con questo trattamento cioè abbiamo voluto verificare l'efficacia del trattamento ora i bambini che avete visto ieri sono quei bambini fortunati che appartengono a quel campione con quegli indici predittivi ma ce ne sono tanti altri infatti abbiamo isolato quel campione di bambini e ci sembra già una cosa importante noi ragioniamo sempre in quest'ottica che se anche un solo bambino viene salvato ne vale sempre la pena se poi ne salviamo qualcuno di più allora siamo proprio felici però quello che abbiamo fatto è stato siccome sapete che l'ADOS è considerato il test goal da tutt'oggi ancora non superato abbiamo diviso tutti i singoli item dell'ADOS e li abbiamo monitorati nei quattro anni e per andare a vedere quali voci erano più sensibili quali comportamenti valutati dall'ADOS avevano una maggiore flessibilità di cambiamento allora quello che abbiamo visto in generale in sintesi è una riduzione del numero di diagnosi di autismo basate sui ponteggi ADOS dopo due e quattro anni dall'inizio del trattamento alcuni bambini soprattutto i bambini che iniziano molto piccoli per fortuna adesso riusciamo a lavorare con molti bambini che sono intorno ai due anni evidentemente questo forse tra due anni vi porteremo altri dati perché questa è un'assoluta novità è chiaro che a questa età iniziare a lavorare con un bambino di due anni e mezzo o due fa già un abisso se poi anziché di due e mezzo ce ne ha tre o tre e mezzo siamo proprio su un altro pianeta e lavorare in questa ottica di andare a riagganciare il vissuto alla base una significativa riduzione e quindi alcuni bambini i cambiamenti ce li fanno vedere in maniera forte già dopo due anni il bambino che avete visto ieri era un bambino partito da un punteggio altissimo vi abbiamo voluto far vedere la falsa credenza perché quando è arrivato a quel punto abbiamo praticamente finito e quello è un bambino che è iniziato molto piccolo e ci ha dato dei risultati già dopo due anni molto significativi tanto per fare un esempio comunque in tutte le aree valutate miglioramenti del cui nell'intero campione dopo due anni di terapia 19 bambini su 80 sono usciti dalla classificazione diagnostica di autismo dopo quattro anni 31 su 80 sono usciti dalla classificazione diagnostica di questi 31 bambini 13 appartenevano al gruppo dello spettro autistico e 18 al gruppo dell'autismo e 14 bambini sono passati da autismo a spettro quindi alcuni sono usciti fuori della diagnosi alcuni sono passati dall'autismo a spettro alcuni sono rimasti nella diagnosi di autismo migliorando sensibilmente i comportamenti quindi una riduzione del numero quantitativo all'ados e quindi per tutti i bambini c'è stata una riduzione dei punteggi e tutti i bambini dopo quattro anni mostrano comunque miglioramenti significativi nei punteggi che riguardano linguaggio e comunicazione interazione sociale gioco comportamenti ristretti e riperitivi ovviamente questi punteggi inferiori all'ados che cosa significano? sono la manifestazione di una riduzione di quelle difese autistiche intese nell'ottica in cui vi ho detto per non essere confusi con queste difese romantiche di un mondo di un'altra natura sono queste barriere iniziali che portano il bambino guardate anche le ultimissime teorie per esempio Smith che ha parlato dello sbilanciamento empatico sottolinea quanto le stereotipie che sono state veramente tanto maltrattate nel mondo scientifico siano invece la manifestazione di un eccesso di empatia emotiva paradossalmente cioè il bambino autistico sarebbe così sensibile agli stimoli che deve erigere delle barriere e le stereotipie servono proprio a questo quindi nel momento in cui noi ci sintonizziamo con le aree più arcaiche evidentemente le difese possono abbassarsi e quindi diminuiscono i comportamenti stereotipati qui è semplicemente per farvi visualizzare sono degli item delle sottoscale dell'ADOS dove abbiamo allora quelli in verde sono perché si vedono effettivamente quelle in verde sono autismo e considerate che il il fatto che siano maggiori significa che stanno peggio cioè un punteggio più alto significa che i bambini hanno dei comportamenti più disfunzionali come potete vedere già così a occhio i bambini autistici rispetto a quelli dello spettro autistico quindi già facciamo una differenza sostanziale di due categorie hanno dei comportamenti più disfunzionali in tutte le sottoscale che riguardano la comunicazione dall'indicare al gioco questo sempre per quello che riguarda l'interazione sociale reciproca sempre i bambini autistici quelli in verde hanno dei punteggi che indicano degli aspetti assolutamente più disfunzionali non riesco il contatto visivo perché non si legge vero? perché c'è troppa luminosità perché lavamo? va bene comunque sono tutte le aree che riguardano l'interazione sociale reciproca esatto esatto la prima valutazione quello che c'era in comune erano appunto quello la disfunzione presente in entrambi era l'utilizzo di parole idiosincrasiche stereotipate e l'uso del corpo dell'altro perché sapete che i bambini autistici una delle caratteristiche principali anziché indicare usano l'altro usano prendono il corpo dell'altro per arrivare all'oggetto che questo significa che non c'è una differenziazione tra sé e l'altro e non può entrare l'indicazione come base del far riferimento al mondo questo è una disfunzione fondamentale da cui scaturiscono tutte le altre i comportamenti ristretti e ripetitivi migliorano progressivamente con una frequenza in intensità maggiore nei bambini con autismo e questo è quello che ci sembrava molto interessante sottolineare la differenza tra gioco stereotipato funzionale e simbolico che cosa succede nei bambini autistici il gioco stereotipato è presente nel 78% dei casi mentre nei bambini dello spettro è presente nel 6% dei casi cioè stanno meglio perché la presenza di gioco stereotipato significa un limite un blocco nel processo di costruzione ma dopo due anni c'è una significativa riduzione per il gioco funzionale a T2 T2 sarebbe la valutazione 2 quella fatta dopo due anni aumenta significativamente nei bambini dello spettro diminuisce il gioco funzionale perché inizia quello simbolico e invece per quanto riguarda il gioco simbolico è quasi assente è assente nella quasi totalità dei bambini con autismo poi abbiamo una comparsa parziale e nella valutazione finale dopo quattro anni una crescita significativa invece nel gruppo dello spettro noi abbiamo un aumento considerevole dopo due anni e poi rimane stabile perché dopo due anni ha già conquistato il gioco simbolico e queste sono le slide che mostrano qui vanno lette in questo modo praticamente questo è il gioco stereotipato in verde è sempre l'autismo vedete che nelle tre valutazioni i bambini autistici hanno il massimo e poi diminuisce mentre i bambini dello spettro hanno una minima parte di gioco stereotipato e poi sparisce i bambini in trattamento ovviamente questa è una verifica dell'efficacia del progetto questo è per il gioco funzionale come vedete questa volta lo spettro arancione alla prima valutazione è molto più alto decresce quello dell'autismo che era basso cresce e questo è il gioco simbolico che come vedete nell'autismo è quasi assente a T1 il verde poi cresce e nello spettro è ok questo è l'articolo nel quale potete trovare le delucidazioni su tutto ciò che ho detto vi ringrazio tantissimo grazie grazie